Judith Malina, attrice, regista, scrittrice, una protagonista del teatro più rivoluzionario del novecento. Judith Malina, fondatrice con Julian Beck della compagnia dei Living Theatre, fu una presenza importante e assolutamente indimenticabile del teatro internazionale in cui agì come scrittrice, regista, attrice, operando in America sin dal lontano 1947 e poi per molti decenni anche in Europa. Judith ha avuto un ruolo fondamentale nella conduzione del gruppo, o meglio del collettivo del Living, in assoluto tra i più attivi, provocatori e all'avanguardia del teatro del novecento. La figura di Malina è anche centrale in pagine particolarmente significative della storia di Torino. Già nel 1961 e nel 1965 The Connection e The Brig, ospitati dal teatro stabile di Torino al Carignano e al Gobetti, sono spettacoli con la sua regia, a cui Fadini dà un suo contributo come promotore, oltre che come critico. Come ha poi rievocato nel 2005 Fadini stesso in un'intervista ad Anna Maria Monteverdi su ateatro.it. Il Living qui a Torino ha sempre trovato ospitalità. L'avventura del Living è di lunga durata. Abbiamo fatto Mysteries and Smaller Peace nel 1966 come spettacolo di riapertura della nuova sede dell'Unione Culturale sotto Palazzo Carignano. Ricordo la folla e l'attesa degli spettatori. Il gruppo era a sedere in cerchio in attesa del pubblico e ti guardavano, avevano un modo di guardare e di alzare il pugno. E poi ricordo un home del gruppo che saliva al cielo e poi lo slogan Stop the War di Julian Beck. Erano anni di grande fermento e dibattito culturale. Pochi mesi dopo quella performance, nel novembre 1966, dato che Fadini ha ora a sua disposizione una sala come quella dell'Unione Culturale di cui è direttore artistico, ecco che il Living torna con un'altra regia di Malina, Le Bonne, da Genet. E poi ancora nel 1967 con ben due spettacoli, Frankenstein, tratto da Mary Shelley, e Antigone, riallaborato da Brecht, diretto e tradotto sempre da Judith, che era tedesca di nascita e figlia di due ebrei polacchi emigrati poi negli Stati Uniti. Ancora un ricordo di Fadini su quell'Antigone. Ricordo molto bene come Judith dirigeva il gruppo. Nella prima fase del lavoro erano tutti in fila attaccati al muro. Lei ordinava di alzarsi, di allontanarsi, regolava scrupolosamente questi movimenti, singoli o di massa. Quando si passava alla voce era all'inizio dello spettacolo, rigorosamente senza testo. L'Antigone fu un grande evento. Mi telefonò la segreteria particolare di Gianni Agnelli. Volevano 12 biglietti. Venne la famiglia al completo. Dalla rivista online ateatro.it 2005. Nel 1969 Malina e Beck tornano a Torino con Paradise Now, programmato in uno dei teatri più grandi della città, l'Alfieri, dove però la prima è interrotta dalla polizia quando gli attori si spogliano e tentano di interagire con il pubblico. La sera seguente Paradise Now trova un nuovo spazio, di nuovo grazie a Fadini, all'unione culturale. Anche quella sera è presente in prima fila l'avvocato Agnelli, che si era fatto tenere alcuni posti per tutto il pomeriggio da uomini della sua scorta. E gli spettatori di quella storica performance di cui l'archivio dell'Unione Culturale ha registrato le testimonianze ricordano ancora di aver partecipato in molti all'invito degli interpreti di salire sul palco, spogliarsi e lasciare interagire i loro corpi, e che verso la fine dello spettacolo tutti gli attori in gruppo andarono a morire l'uno dopo l'altro, stendendosi a terra proprio ai piedi dell'avvocato, che rimase impassibile. Dagli anni 70 agli anni 90 molti spettacoli del living furono ospitati al Cabaret Voltaire, creato e diretto da Fadini, sia nella sala di Via Cavour, ancora Antigone, sia in spazi alternativi, come le vie borghesi della città. Nel 1976 uno storico corteo nella centrale Via Roma, in appoggio allo sciopero di una fabbrica di Leini, fu filmato dal regista Corrado Iannelli, o spazi all'aperto, come un tendone ai giardini Ginzburg, dove con il Cabaret Voltaire produssero la Torre del Denaro, restando a Torino per parecchi mesi. Judith Malina, dopo la morte di Julian Beck nell'85, continua in prima persona la missione con il suo collettivo, attraversando ancora l'Europa con lo spirito nomade che ha sempre caratterizzato il gruppo, proseguendo la linea già tracciata, accentuando il carattere politico delle loro azioni di strada, tra interventi e seminari all'università, readings e festival. Nel 1994 debutta Not In My Name, spettacolo del Living diretto da Malina, che fu portato in giro per molti anni in America e in Europa, a cui lei aveva dichiarato di tenere moltissimo, perché era la risposta diretta, forte e attiva, al sempre più frequente uso della pena di morte, attraverso l'interazione con il pubblico, a cui ogni attore chiede, ti do la mia parola che non ti ucciderò mai, me lo prometti anche tu? In quello stesso 1994 la strada artistica di Judith si incrocia con una realtà piemontese, la Casa degli Alfieri, nel Monferrato, e da questo incontro scaturisce uno spettacolo memorabile, Modi e Jane, dove Malina è affiancata da Lorenza Zambon e rivela al pubblico italiano ottime doti interpretative che forse non aveva mai espresso pienamente all'interno del Living. E in quegli anni, sempre in Piemonte, in un piccolo paese, Rocchetta Ligure, in provincia di Alessandria, Judith e i suoi compagni di viaggio trovano una casa per il loro teatro, eterno sogno ricorrente di ogni compagnia. Finalmente Judith e i suoi attori possono abitare tutti insieme, avere uno spazio prove, produrre e allestire i loro spettacoli. E negli anni 2000 da Torino a Rocchetta Ligure ancora una volta arriva Edoardo Fadini, dopo che il gruppo ha dovuto abbandonare la sede, lasciando tutto quello che aveva raccolto in quegli anni. Fadini recupera quell'enorme patrimonio artistico, pellicole, videocassette, nastri audio, tesi di laurea, fotografie, diapositive a colori e in bianco e nero. Tra le rarità, il documentario Etre Libre, testimonianza del Living ad Avignone nel 68, con frammenti di Paradise Now e registrazioni del Maggio a Parigi. Le sette meditazioni sul sadomasochismo politico, che fu portato dallo stesso Fadini a Torino negli anni 80 al Cabaret Voltaire. La lettura di Julian Beck del monodramma di Beckett That Time al Caffè La Mama nell'85. E molti altri interventi del Living, interviste e azioni di strada, performance. Tutto ciò verrà catalogato, usato nel corso di parecchi anni per organizzare incontri, seminari e performance con alcuni membri del Living. Judith soggiornò ancora molti anni in Italia e uno degli ultimi incontri fu nel 2012, quando fu invitata per il Festival delle Colline Torinesi a partecipare con i Motus, il gruppo più studiato, programmato e promosso da Fadini in quel periodo, ad uno spettacolo che si interrogava sulla rivoluzione. La rivoluzione, here and now, è ancora possibile? Fadini vi assistette come spettatore, applaudendo e abbracciando la sua amica Judith, che di lui disse in un'intervista «Sono stata e ho vissuto in molte città, ma Torino ha qualcosa di particolare. Non posso dimenticare» Edoardo Fadini, che è stato tra i primi operatori teatrali a portare il Living Theater in Italia. La stampa, 19 giugno 2012. Ancora Torino, ancora Judith Malina, con Fadini a Torino.